Professore Camfora, lei ha lanciato l'allarme dicendo che oggi ci sono incredibili analogie con quello che ha portato al fascismo. Quali sono queste analogie? Credo di aver detto nei comportamenti che si stanno profilando, per esempio quella aggressione diciamo verbale, forse non solo verbale, sulla passeggera 39enne che in un autobus difendeva una Roma, quindi una reazione veramente scomposta e allarmante. Aggressioni in altre parti d'Italia, sono i comportamenti, le pulsioni come ha detto Zucconi in questa trasmissione tanti mesi fa e dall'altra parte c'è un esponente governativo molto potente che presiede addirittura la nostra sicurezza, cioè il Ministro dell'Interno, che non disdegna di mimare alcuni atteggiamenti e alcuni concetti, quindi non ha senso dire torna il fascismo, una frase grossolana, schematica, ha senso dire che ci sono degli elementi allarmanti da entrambe le parti e che la storia è perenne movimento, ma non si ripete mai in modo identico. Allora, naturalmente lei stava parlando del Vice Premier Ministro dell'Interno Salvini. Professore, perché, si chiede alla professoressa Tarquini, abbiamo bisogno di parlare di fascismo? Buttafuoco ha subito detto perché è una scorciatoia. E evita l'analisi, ecco. E evita l'analisi. E in più lei sta col dittino alzato? Ma credo di non avere questa abitudine mai. In ogni caso non tocca a me ricordare a persone così competenti qualcosa che fa parte della conoscenza storica, cioè che intanto il fascismo è un fenomeno che si evolve nel corso del tempo. Il programma di Ciannovista è altra cosa dal governo di coalizione, compresi i liberali e i popolari, che Mussolini fa nell'ottobre del 22, ed è altra cosa dal listone delle elezioni del 24, è altra cosa dalle leggi eccezionali, è altra cosa dalla dittatura aperta. Quindi è un fenomeno che vive attraverso trasformazioni, incontrando consenso e sfruttando abilmente insoddisfazione, scontentezza, esasperazione. È giusto ricordare oggi questo sentimento. Buttafuoco è un uomo che vive nella realtà e addirittura la plasma, è vero, e la racconta poi nei suoi libri, ha raccontato episodi sintomatici, se ne potrebbero raccontare altri, i quali tutti confermano che questo stato diffuso psicologico di insofferenza è il terreno di cultura. Poi ovviamente non tocca a me spiegare che il fascismo è un concetto che si adopera in due sensi ben distinti. Uno è legato al singolo fenomeno italiano, la vicenda italiana, ma è lecito dire che esistette un fascismo spagnolo, un fascismo argentino, un fascismo polacco, un fascismo inglese di Mosley, il quale era un ser e veniva dal partito laborista, dove era stato anche ministro di McDonald's, quindi articolazione dei concetti per capire e per prendere sul serio, non per consolarsi, per prendere sul serio, perché seria fu la scalata al potere del fascismo ed è interessante e giusto vedere come avvenne perché quel tipo di dinamica può ripetersi, dinanzi a pulsioni differenti. L'ebreo era il nemico nella Repubblica di Weimar per i nazisti, il migrante lo è diventato oggi per una ossessiva campagna antimigranti che il capo del Ministero dell'Interno ha fatto durante la campagna elettorale ed era certamente nella memoria ancora di tutti, li andremo a cercare casa per casa, li cacceremo, gli aerei li riempiremo e li manderemo via. Ecco, tutto questo significa qualcosa, non si racconta non per consolarsi, ma per capire. Un bel guaio qui in studio a Roma, professor Canfor, allora uno stiamo abusando di termini come fascismo e antifascismo e alla fine è un po' una scorciatoia come dice Buttafuoco perché non siamo in grado di difendere il valore delle nostre democrazie e che sono comunque state costruite sulle serie di due guerre mondiali, insomma anche l'Europa è stata costruita diciamo su grandi tragedie, è come se non fossimo in grado di difendere tutto questo. Ma non credo, non mi pare, un pochino mi sorprendeva questa formulazione alquanto estrema secondo cui il fascismo non avrebbe a che fare con la destra reazionaria, mi pare un eccesso di ottimismo dal punto di vista di Agnospito. Avrei una prova, professore. Perché è più dura. Dice che avrebbe una prova, Buttafuoco. Una delle caratteristiche del fascismo è stato quello di essere contemporaneamente capace di promuovere lo Stato sociale in certe forme e al tempo stesso però di sorreggere fortemente gli interessi del grande capitale insomma non devo adesso ripercorrere tutto quello che il grande capitale italiano ha avuto di giovamento dal regime questo è un fatto anche a domesticamento del movimento sindacale è un fenomeno che serve al padronato che comunque i comunisti andavano in galera. Del 19-20. Ora questo elemento non va perso di vista anche se è giusto mettere in luce la capacità fortissima che ebbe il fascismo per un certo periodo di tempo di catturare il consenso. Quanto poi all'uso della terminologia che discende dall'esperienza storica precedente io non credo che sia un nefas, una nefandezza perché allora potremmo dire che quando i bolscevichi si scannavano tra loro si tacciavano di essere ora bonapartisti e ora termidoriani va bene ma è ovvio che si adoperano delle categorie dell'esperienza precedente il fatto che da quando è finito in Italia, in Germania, molto dopo in Spagna e in Portogallo il fascismo nelle forme specifiche che aveva assunto in quei paesi si sia però continuato a parlare di questa realtà psicologico-politica non è un capriccio degli intellettuali, è diventato un fatto concreto esso stesso, un strumento ermeneutico che aiuta a suscitare la vigilanza dei militanti, non perché si usano questo termine si è meno pronti a difendere il sistema democratico, anzi in certo senso lo si è maggiormente, non credo proprio che ci sia questo rischio. No, dicevo il fatto stesso che movimenti tipo Casa Pound corteggino un uomo come Salvini e quello che egli rappresenta, che il movimento nazionalsocialista americano appoggi fortemente Trump avrà pure un qualche significato, è chiaro che è un'operazione a proprio vantaggio però ha un elemento fondativo innegabile, questo va sempre aggiunto, la vivacità anche aggressiva in questa città di Bari si è visto qualche mese fa dei movimenti di estrema destra la vivacità è stata sollecitata dal clima che si è creato, poi speriamo che questo clima venga contrastato, che entri in crisi il governo Irco Cervo, però questo è un fatto che a sua volta va inserito nel dossier di studio che stiamo elaborando. Buttafuoco e Tarquini. Ritengo professore che più che fatti siano esorcismi, dopodiché vorrei portare la prova ad adiuvandum proprio perché lei professore da Bari può verificarlo. Rino Formica racconta sempre che quando venne incaricato da Bettino Craxi nel cercare i voti per un'elezione presidenziale andò proprio da Araldo di Crollalanza, ministro del lavoro celebrato nella memoria della storia italiana, che era il decano dei senatori del movimento sociale italiano. E quindi nella loro discussione gli chiese se i voti della pattuglia missina potevano andare al candidato socialista. Disse Araldo di Crollalanza, e quindi siamo nel dopoguerra, mi chiedi di obbedire all'ultimo ordine datomi dal Duce, quando non ci sarà più il fascismo rivolgetevi alla casa madre, al partito socialista italiano. Questa ribadire a conferma che il fascismo con la destra non c'entra più. Torniamo al... Ma dunque, aver paura delle parole non mi pare una grande politica e neanche un aiuto alla quotidianità. Le parole che adoperiamo, se sono spiegate, hanno una forza ermeneutica notevole. Torno a dire, il fenomeno del fascismo è un fenomeno storico che è stato anche riconsiderato da tutti i punti di vista, la modernità, ma la modernità non vuol dire progresso. La modernità è un fenomeno, come gli studiosi sanno, che ha attraversato negli anni 30 regimi fra loro molto diversi. Gli studi sul corporatismo, che non è soltanto il fenomeno italiano del corporativismo, riguardano anche i tentativi analoghi in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti. Tutta questa modernità l'abbiamo capita, riconosciuta, ma questo non toglie nulla alla lotta contro il movimento operaio organizzato, alla distruzione dei partiti politici di opposizione, che fanno del fascismo un fenomeno di destra. Quanto poi al fatto che oggi questo fenomeno non lo vediamo per fortuna attuarsi, ma alcuni germi di esso, solleticati dai comportamenti di un ministro disinvolto, possano diventare un pericolo, credo che sia meglio accorgersene che non rifiutarsi di vederlo. Professor Canfora, circa un mese fa a Roma sono state rubate le pietre d'inciampo che ricordavano la deportazione nei campi di concentramento nazisti di alcuni ebrei romani. Adachiara Zevi ha detto, un governo come quello che abbiamo, che aizza all'odio verso i diversi, legittima questi atti. Come mai il Movimento 5 Stelle, a parte la sindaca Raggi, sono così silenti di fronte a questi episodi. Questo credo di averlo talvolta ripetuto e cioè la sindaca Raggi non poteva far diversamente, per fortuna ha parlato e viva e viva, ma che invece il Movimento 5 Stelle ha barbicato all'attuale governo e alle poltrone di esso, chiuda gli occhi pur di restare in questo abbraccio mortale è cosa, ahimè, sotto gli occhi di tutti. È una politica suicida, proseguono nel farla affinché non si renderanno conto di avere danneggiato gravemente il nostro paese. Perché è ovvio che smascherare un papiro sospetto e dimostrarne la falsità significa combattere per la verità contro le menzogne o comunque le interpretazioni errate. Combattere contro l'acquiescenza nei confronti della violenza antisemita, antimigranti significa smascherare un governo o una parte di esso che si comporta fascisticamente ma non vuole che lo si dica. Quindi siamo perfettamente d'accordo. Senta Professor Canfora, siamo veramente in chiusura. Secondo lei per Salvini quest'anno la pacchia finisce o continua? Beh, c'era stata una vignetta di Giannelli di un gruppo di migranti su di una barchetta che si rivolgeva a Salvini e gli diceva Salvini la pacchia è finita. Vignetta secondo me è immortale. La pacchia finirà presto perché questo governo non può reggere alla prova delle elezioni europee. Dopodiché si aprirà una fase delicatissima e si spera che qualche d'uno rinsavisca anche quei votanti per i 5 stelle che pensavano di votare per la rivoluzione sociale e si trovano invece imbottigliati in una realtà molto ma molto deludente. Grazie Professor Canfora, grazie Pietrangelo Buttafuoco, grazie Alessandra Tarquin.